Ben ritrovati amici di Infocilento a questo nuovo aggiornamento meteo. Tempo instabile sull'Italia a causa dell'affondo di una seccatura atlantica sull'ovest del continente. Ecco il centro di bassa pressione nei pressi della Sardegna che invia sistemi perturbati sulla nostra penisola con maltempo soprattutto sulle regioni centrosettentrionali. Sul Cilento invece abbiamo nuvolosità sparsa con deboli piogge sparse. Per quanto riguarda invece la situazione termica abbiamo venti di scirocco e quindi temperature che si mantengono su valori al di sopra della media del periodo. Lo notiamo da questa cartina, ecco i valori massimi particolarmente elevati per il periodo sul sud Italia, superiore infatti ai 20-22 gradi. Vediamo quindi in dettaglio cosa ci aspetta sul Cilento, Vallo di Diano e Alburni nel corso del weekend. Cominciamo con la giornata di sabato quando avremo ancora un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso un po' su tutto il territorio, non sono da escludere delle deboli piogge sparse. Diamo uno sguardo invece anche alla giornata di domenica quando avremo delle maggiori schiarite sul Cilento ma ancora della nuvolosità sparsa. Le temperature subiranno un ulteriore aumento portandosi quindi a diversi gradi sopra la media del periodo. Bene con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci! Grazie a tutti!